Una superficie loft tracciata mediante guide genera appunto una superficie o un solido a partire da, qui abbiamo delle sezioni trasversali, ne selezioniamo solo due, come si può vedere questo è una specie di vaso, quindi selezioniamo la prima e l'ultima e il sistema già mi traccia una prima idea di superficie, a modalità superficie, quindi invio e seleziono guide, le guide sono, le guide quindi laterali, queste, il sistema già inserisce mano a mano che seleziono, se interrompo, questa sarà la mia superficie, le seleziono 4, invio, quindi questa qua è una superficie loft a partire da due profili inferiore e superiore e quattro guide. Questa superficie ovviamente può essere editata, quindi posso aumentare le isoline, la U è in senso orizzontale e la V in senso verticale. Posso appunto anche selezionare il tipo di levigatezza, per esempio se è normale la prima, in questo caso non è possibile modificare le normali perché sono su guide, le guide già determinano l'andamento della mia superficie. Torniamo indietro e vediamo invece di utilizzare gli stessi profili ma a partire da 3 profili, quindi con una traiettoria, quindi selezioniamo 3 al posto di 2 e invio, T traiettoria, selezioniamo solamente una traiettoria di queste. Vedete che il sistema chiude, esce e mi traccia 1, in questo caso è un solido, a partire da 3 profili e una traiettoria. Vediamo in particolare sulla traiettoria un esempio più significativo. Qui abbiamo un profilo unico e abbiamo delle sezioni intermedie, quindi loft, selezioniamo tutti i profili seguendo un ordine e seguendo anche un criterio di selezione, se la prima selezione è su una linea esterna, continueremo per linea esterna in tutte le selezioni. Invio. Lui ha già preso la traiettoria, però ripetiamo traiettoria per essere sicuri, seleziono la traiettoria. Ecco, come si può vedere aveva tracciato un superficie o un solido, in genere se non viene specificato è un solido e poi con traiettoria specifico meglio l'andamento che deve seguire. Dopo aver tracciato il solido, in questo caso, posso selezionare il solido e editare i profili, 1, 1, quindi il profilo in questo caso era una spline o anche una regione, non cambia, e come si può vedere tirare, quindi modificare il profilo e per il profilo modificato passerà ancora il solido. Cliccando due volte sul solido si apre la solita finestrella e da questa finestra di definizione parametri posso cambiare l'angolo di sformo iniziale, ad esempio 11, e cambierà, come si può vedere, l'inizio era a sinistra, cambierà l'angolo di sformo iniziale o finale, quindi cambierà l'andamento del solido o della superficie. Posso cambiare anche l'ampiezza iniziale, che è un valore numerico, quindi, e quindi modificare di conseguenza l'andamento e il profilo del solido.